Bloccati gli aumenti dei pedaggi autostradali su a 24 a 25 per altri due mesi e quindi fino al 31 agosto coloro che viaggeranno sulle arterie autostradali gestite dalla società Stada dei Parchi non spenderanno il 20% in più rispetto alle attuali tariffe. Lo conferma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in una nota spiega di aver ottenuto dal concessionario il blocco dei rincari dei pedaggi nelle more della definizione del nuovo piano economico finanziario atteso da 5 anni. Il MIT sensibile alla tutela degli utenti che viaggiano sulle due autostrade tra Abruzzo e Lazio si è impegnato insieme al MEF affinché si arrivi alla definizione del piano economico finanziario per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza sismica per un importo pari a circa 700 milioni di euro coperti da contributi pubblici. Nell'accordo è previsto lo sblocco del piano economico finanziario non rinnovato dal 2014 che comprende tariffe più calmierate e un maxipiano di messa in sicurezza antisismica delle due autostrade. Un'ottima notizia per gli automobilisti e cittadini di Lazio e Abruzzo, afferma in una nota il Codacons.